lord bromel o del non farsi notare lord bromel che dell'eleganza aveva fatto la propria ragione di vivere aveva di essa un famoso concetto la suprema eleganza consiste nel vestire in modo che non si venga notati donde la sua notorietà si sa che quando un amico incontrandolo gli diceva come siete elegante l'elegantissimo lord esclamava sgomento mi si vede forse qualche cosa e correva a cambiarsi è incredibile le pene che provava quando nelle cronache mondane leggeva notato tra i presenti lord bromel ne faceva un casus belli era tale la sua eleganza che a lungo andare i cronisti mondani finirono per scrivere nei resoconti dei ricevimenti e delle feste aristocratiche non notato fra gli intervenuti lord bromel benché ci risultasse presente ormai tutti sapevano che l'eleganza di bromel consisteva in questo e come sempre accade anche gli ebbe imitatori tal che nelle riunioni degli elegantissimi i cronisti dovevano scrivere in questa festa mondana non siamo riusciti a notare nessuno tanto erano eleganti tutti di quella speciale eleganza che consiste nel non farsi notare naturalmente anche fra gli imitatori lord bromel era quello che meno si faceva notare nessuno riuscì mai a uguagliarlo in quest'arte difficile e raffinata non notato nessuno scrivevano sovente i cronisti quanto a lord bromel addirittura impossibile scoprirlo quando l'elegantissimo si accorse che tutti più o meno limitavano su questo terreno riuscì a batterli con mezzi talvolta a sleali un giorno per esempio in una festa a corte per non essere notato si nascose sotto una tavola che fa vostro onore qui gli chiedevano i camerieri e lui non mi tradite sono qui per non farmi notare giunse a dei travestimenti nelle feste di dame si vestì talvolta da donna per passare inosservato se faceva il suo giro di beneficenza tra i poveri del rione per non essere notato si vestiva da pezzente quando si accorse che con questa storia di non farsi notare era diventato celebre fu per lui una mazzata sul capo dovunque andava sentiva mormorare quello è lord bromel guarda guarda come non si nota e tutti se la ditavano bisbigliando è straordinario non si nota affatto quando usciva di casa la folla si stringeva intorno a lui per ammirare l'uomo che non si notava codazzi di gente lo seguivano attraverso la città per godere lo spettacolo di lord bromel che passava inosservato questo fu il supremo trionfo della eleganza di lord bromel intesa a non dare nell'occhio i cronisti scrivevano notato per il modo come riusciva a non farsi notare lord bromel bromel però non era felice deperiva non sapeva più come fare per non essere notato finì per non uscire più di casa ma i familiari l'osservavano dava nell'occhio con quello starsene tappato in casa per non essere notato giunse a restare in letto col capo sotto le coltri la mattina il vecchio servitore gli portava la cioccolata dove andato non c'è il letto presentava un rigonfiamento sospetto eccolo lord bromel zitto lasciava palpeggiare e non si muoveva è lui o non è lui il servitore tirava via le coperte bromel appariva rannicchiato maledetto borbottava mi ha notato vedendo che non riusciva a non farsi notare s'ammalò di crepacore il medico lo notò morì la cosa non passò inosservata fu chiuso in una cassa per disposizione testamentaria lord bromel dando ancora un'ultima prova di buon gusto aveva voluto che il funerale passasse inosservato la cosa incuriosì talmente che tutta londra era lì a vedere come riusciva bene a passare inosservato